Sulla crisi del porto di Gioia Tauro, prospettive e scenari strategici, fa il punto Luigi Longo, ex direttore dell'impresa portuale All Service, che operava fino a qualche anno fa nello scalo gioiese. Le prospettive, scrive Longo nel suo articolo pubblicato sul sito di informazione a Prodo News, non sono buone, soprattutto dopo il fallimento dell'accordo di Vesselsharing Maersk Line e la Mediterranea Shipping Company, che ha escluso il porto di Gioia dal servizio che collega l'Asia con il Nord Europa. Una decisione, scrive ancora Longo, che spezza le gambe allo scalo gioiese, a vantaggio del porto di La Spezia, guarda caso, sostiene ancora, sempre di proprietà del colosso tedesco che guida Gioia Tauro. Va anche ricordato che i numeri penalizzano Gioia Tauro a vantaggio di La Spezia. Nel primo trimestre del 2014, infatti, i traffici marittimi alla Spezia sono aumentati del 20%. A Gioia Tauro si è registrato un calo del 9%, ma quello che preoccupa maggiormente è la crescita del porto di Salerno, del 14%. Emblematica la vicenda dei treni costruiti a Reggio Calabria e spediti in Giappone non dal porto di Gioia Tauro, ma da Salerno. Ma questo è niente con l'apertura del grande terminal di Vado Ligure che nei primi mesi del 2018 sarà in grado di ospitare le super post Panamax. Vado Ligure diventerà il primo porto italiano di trash shipment soppiantando Gioia Tauro. Dopo oltre 20 anni dalla nascita del porto di Gioia non sono state create le condizioni per avviare un margine di sicurezza nella competitività. Bisogna realizzare le infrastrutture necessarie per rendere inattaccabile il terminal di Gioia Tauro. Inutile prenderci in giro, dice ancora nel fondo Luigi Longo. Il bando per il terminal ferroviario è una pura illusione per tutta la Calabria. Per rendere competitiva Gioia Tauro raggiunge il bando doveva essere indetto un paio di anni addietro. Da Vado Ligure per raggiungere i mercati ricchi europei, Francia, Spagna e Germania bastano solo un paio di ore. Da Gioia Tauro invece, ammesso che si faccia il terminal ferroviario, per raggiungere l'alta velocità ci vogliono circa otto ore. Inutile nascondersi, sostiene, si tratta solo di un sogno irrealizzabile. Il fallimento politico, sottolinea l'ex direttore, sta nell'aver aspettato 18 anni per programmare il terminal ferroviario e la rete di trasporto su binari, un ritardo enorme che in regime di non concorrenza consentiva Gioia Tauro di avere un ruolo strategico nei porti di trash shipment, ma con l'entrata nel 2018 di Vado Ligure il sogno di Gioia Tauro crolla. I responsabili sostiene Longo tutti coloro che hanno aspettato 18 anni per programmare il nulla. Trattati a pesci in faccia, con la complicità di gran parte della classe dirigente calabrese negli scorsi anni, contestare la proprietà e il management del colosso tedesco era impossibile per chiunque e chi ha osato farlo, in particolare gli imprenditori locali, dice ancora, nel tentativo di far presente che le cose stavano prendendo una piega non positiva e stato distrutto, massacrato da una rete capillare fatta di apparati dello Stato, giornalisti, sindacalisti, politici e uomini tutto fare. Il caso della All Service in questo contesto è emblematico, dice ancora l'ex direttore, rileggere le carte del comitato portuale di quegli anni certifica l'azione criminale di una certa classe dirigente, valodato il coraggio del sindaco di Gioia Tauro Pedà e del suo assessore toscano che hanno chiesto a gran voce la fine del monopolio della Conship, la ZES, è solo uno specchietto per le allodole, per noi fessacchiotti calabresi, nulla contro la ZES, ma è un progetto irrealizzabile, si legge ancora nell'articolo, perché va a sconvolgere lo scenario competitivo portuale italiano in prospettiva di tutto il Mediterraneo.